la vista diciamo io lo dico sempre siamo fortunati a lavorare qui siamo uno dei posti più belli del mondo se non il più bello la cucina è un'arte secondo me è un'arte è semplice e difficile allo stesso tempo bisogna essere creativi bisogna essere guardare giustamente la tradizione e ci sta un po di innovazione oggi abbiamo preparato i classici ravioli capresi diciamo un piatto molto importante per la nostra isola molto antico un piatto molto tradizionale un piatto molto semplice molto buono questo avevo 16 anni quindi 16 anni fa ho imparato questi ravioli lavoravo in ristorante qui a capri marina grande dove se ne facevano in quantità industriali facevamo tutti i giorni noi siamo un gruppo di amici prima di tutto prima amici poi colleghi ognuno di noi alla piena libertà di espressione parliamoci confidiamo e poi vediamo qual è la cosa migliore è più giusta da fare sono tante cose tante cose attorno al volcano nella nostra terra ci sono veramente dei grandi prodotti in campagna soprattutto abbiamo grandi prodotti importante il gusto per me il gusto fondamentale però presentare un buon piatto a tavola è fondamentale i colori assolutamente i colori i profumi siamo terra di pomodori di limoni quindi è giusto far sì che queste cose che riceviamo le portiamo a tavola ai nostri clienti continuare a sognare quella è la mia quando si smette di sognare si smette di vivere a 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